Un partito bimbi in bici, un misto con gli adulti. Stiamo pronti? Cinque. Dietro andiamo. Cinque abiscusi. Pedale, pedale, pedale. Pedale, ali, forza. Dai, su, 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 su. E' un servizio vero, al volo. Una mano guida. Come sta andando? Come sta andando? Com'è? Vi piace? Divertente? Eh, sì, mi piace. Sì, è divertentissima. Divertente non lo faccio. VINIA Non lo faccio. Non lo faccio proprio. Non lo faccio proprio più. È un volo. Gliumana. Non ci sono meg gobierno una pe Jordia. C'è un menino che lewani, non lo faccio è più. Come lo faccio incontro. Grazie